Ah, è il caso di dire che cazzo, ma lei che direi signori, perché probabilmente in cucina tante cose, perché in cucina in termini cicliallitici è l'io, l'io è l'io, mentre il soggiorno è il superio, il bagno è l'incontro, si, certo, cos'è l'incontro, superio, superio, io e il monzo, e cioè il casino, me lo ha detto, che è molto il mondo, ah, per questo non gli piacesse la cavalletta, eh, non mi piace, ma no, è un casino, eh, ciclo, ecc, no, è un casino, un casino, più presente, c'è da un lavoro, da un'altra parte non sul letto, Non ho letto nella camera del vetro, mai. Ok, ho capito tutto. Ehm, è a caldo? No. Si, si. Perchè? 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 Non avevo le camicie di raccontare. Non raccontare niente. Pensavo di chiamare a un amico suo, però... visto che... non avremmo tempo di chiamare. Ma che chiamare? E' meglio che con gli uomini chiacchiare. L'amico čistoso il tritotto, la faccia di otto. Grazie a tutti